Salve a tutti ragazzi, benvenuti a una nuova iterazione della nostra rubrica comprare o no mi scusi in anticipo se suono come se avessi una scopa in culo ma sono super influenzato e volevo comunque far uscire questo video in tempo per l'uscita del set di Kaiba quindi, bando alle ciance, risposta breve al titolo del video, compratene una e vedete se scolate in caso contrario andate giù di singole, dipende cosa vi serve ovviamente però in linea di massima andate giù di singole, se non lo vedete nel primo box, niente di quello che state cercando se siete dei zio paperone e volete soltanto l'entra potreste considerare di strisciare la post e pay e tirare su una scatola da 12 pezzi ma penso che vi partano dai 220 ai 300 euro per una scatola da 12 ora, trovate tutto probabilmente in 2 o 3x però, insomma, bisogna vedere se pensate di ricavarci un guadagno oppure no ora, parliamo velocemente solo delle carte più salienti del set anche perché credo che le avrete già viste ovunque ogni youtuber di questo pianeta le ha già trattate quindi, ovviamente il set per la maggior parte contiene reprint le carte rilevanti in questo momento per il meta sono ovviamente tutte le varie entra di cui ovviamente Ash Blossom che ha il suo primo reprint abc con tutti i suoi pezzi, anche perché indipendentemente che voi lo vogliate giocare o no l'abc in extra se giocate le reaper vi serve loop of destruction che è solitamente loop of destruction che è sostanzialmente una nuova carta staple nel true draco e vedrete che tutti la giocheranno almeno in due perli dentro utopia del lightning che speriamo sia bassi di prezzo dopo la ristampa visto che prima era una carta da 35-40 euro ed è anche per le altre tre carte rimanenti nella slide che vedete nel video insomma, feridragon stava a 5 euro, non era un gran danno ray geeky mi sembra che stava sulla quindicina-ventina d'euro e le demise andavano da 15 a 30 euro a seconda di quanto erano ladri i vari rivenditori personalmente la ristampa di cui sono più felice che aspettavo di più è la card of demise anche perché è una carta che da sola fa girare un sacco di mazzi che se no senza di quella sarebbero oltremodo lenti oltremodo ingiocabile altre reprint interessanti sono the link in duo indispensabile per giocare in gold format e probabilmente io sono abbastanza sicuro che prima o poi tornerà almeno almeno in uno per vedrete se il gioco continua a essere così folle arriverà in uno per prima o poi sage e tutte le altre carte occhi blu anche includendo le nuove che rendono il mazzo finalmente abbordabile un attimino più solido e fra parentesi con le nuove carte di supporto diventa anche un attimino più giocabile il red eyes ma comunque magari ne parleremo più avanti in un nuovo video return of the dragon lords e bells che erano carte che stavano a prezzi astronomici sinceramente non si sa neanche per quale motivo visto che avevano una funzione proprio di nicchia nel gioco ora si spera che diventino un attimino più budget almeno la speranza c'è sempre infine altre carte da tenere d'occhio per prepararsi all'uscita del nuovo structure che arriverà fra un po' layer of darkness mi sembra che uscirà a inizio del mese prossimo non ricordo adesso la data però i primi giorni del mese prossimo sono tutti i vari reprint dei virus visto che questo deck quando arriverà da noi farà veramente grandi cose ci sarà da aver paura termino il video dicendo un paio di cose la lista delle carte è completa in descrizione video al link che trovate non ho parlato di tutte le carte perché la maggior parte sono reprint gialloni filler inutili rarity bump di carte che comunque non vedranno mai gioco nel meta di adesso non so c'è thunder dragon che è stato finalmente stampato allo ma thunder dragon lo giocherete in god format al massimo di sicuro non ho fatto un mazzo adesso con thunder dragon e tante altre cartine che insomma a livello di meta non dicono nulla ma è sempre bello vederle seconda cosa volevo parlare molto velocemente delle accuse che sono state fatte alla konami di aver fatto un set con degli short print che non sono stati indicati short print ovvero mi spiego meglio la totalità di gente che ha aperto più di 3 4 box su youtube o social media o comunque in generale che ha fatto un video ha fatto vedere cosa ha trovato ha fatto notare a tutti che un sacco di carte di cui trovate la lista in questo slide che dovrei lasciarvi che è uno screen di un post di facebook mancano 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 l'appello nel senso che metti caso che se di una carta me ne escono due della stessa rarità di quella me ne esce una e alla lunga quelle carte che ti servono non le vai trovare e le short print ovviamente sono l'entrap sono i gialloni un attimino che hanno un'utilità raigeki eccetera la lista ripeto la dovreste vedere adesso mentre sto parlando nel video la cosa divertente è che la konami ha negato che esistano short print in questo set ma per il momento sono dell'idea che gli short print ci siano veramente quindi speriamo che non vada ad influenzare troppo il prezzo di mercato di queste nuove carte speriamo io spero che tutti voi troviate e sbustiate alla prima botta tutto quello che vi serve però è meglio saperlo che non saperlo detto ciò ragazzi io vi saluto vi rimando ai prossimi video del canale spero meno influenzato di adesso e al prossimo video ciao a tutti